13 mesi di lavoro senza un giorno di ferie, è un bilancio tutto sommato positivo quello di Franco Gabrielli, prefetto dell'Aquila dal 6 aprile 2009, ha vissuto l'anno primo dopo il terremoto che ha scommolto il capoluogo e da venerdì sarà a Roma, al Dipartimento della Protezione Civile, dove sarà vice di Guido Bertolaso. Inizia così un periodo di affiancamento che, stando alle previsioni, lo porterà ad assumere in prima persona la guida del Dipartimento entro la fine dell'anno, anche se con un diplomatico non mettiamo il carro davanti ai buoi, non conferma questa ipotesi, salutando la città, sicura che l'Aquila rimarrà nel suo cuore, ma soprattutto nell'agenda del paese. Tutte le tragedie rendono più buoni i buoni e più cattivi i cattivi, però voglio dire non accetto semplificazioni e generalizzazioni. Qui ho trovato delle persone splendide, dei grandi lavoratori, persone sensibili e persone ovviamente che hanno anche cercato di approfittare. Come credo, credo purtroppo in tutte le comunità umane. Io credo che al di là delle etichette, oggi ci sia bisogno, l'ho detto e lo ripeto, di grande unità. Credo che l'unità dei cittadini aquilani, delle istituzioni, sia il vero grande strumento per rendere possibile una ricostruzione, come dicevo prima, nella legalità e anche in tempi ragionevolmente accettati. Sull'attività svolta nella fase dell'emergenza dice il paese ha dato una grande prova di serietà, respinge al mittente ogni accusa di militarizzazione durante il periodo delle tendopoli e aggiunge quello delle infiltrazioni è un rischio reale che non proviene solo dal meridione.